Tre giornate per rimettere al centro l'importanza dei borghi come strumento di promozione e valorizzazione del territorio, ma anche opportunità per i visitatori di scoprire o riscoprire una rete di eccellenze. E' quanto promette la 14esima edizione del Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, che si terrà il 9, 10 e 11 settembre ad Abateggio e Caramanico. Oggi è stata presentata a Pescara la terza tappa di avvicinamento, in programma domenica 24 aprile a Pretoro, dove si terrà l'Assemblea dei Borghi. Ospite d'onore il giornalista e conduttore televisivo Svaldo Bevilacqua. Sul senso del Festival sentiamo Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione Borghi Più Belli d'Italia, Abruzzo e Molise. Io sono particolarmente fiducioso del risultato che stiamo conseguendo, perché è vero che abbiamo le tre giornate del 9 settembre ad Abateggio, 10 e 11, poi a Caramanico Terme, ma è vero che questo brand dei Borghi Più Belli d'Italia sta creando grande sinergia tra tutti i borghi certificati dell'Abruzzo. Non ultimo il quarto posto di Navelli nella selezione nazionale dei Borghi Più Belli in assoluto in Italia, ci fa ben sperare perché significa che l'Abruzzo sta lavorando bene dal punto di vista del club dei Borghi Più Belli e io con i 29 sindaci dell'Abruzzo e i quattro del Molise abbiamo messo in piedi un programma di lavoro che evidentemente interessa e che ha senso dal punto di vista della promozione turistica dei territori e il coinvolgimento positivo degli operatori economici e delle associazioni. Chiaramente i sindaci sono in prima linea su questo progetto. La giornata di domenica nelle parole del sindaco di Pretoro Diego Giangiulli che promette ai visitatori la scoperta di luoghi meno conosciuti del borgo. Ci può dare qualche anticipazione alla riscoperta di cosa? In particolar modo noi stiamo puntando tanto sul recupero dei mulini rupestri. Noi nella Valle del Foro abbiamo dei vecchi mulini privati e comunali che erano albiti alla monitura e quindi già da un paio di anni abbiamo iniziato un progetto di recupero e grazie allo storico Edoardo Micati che ha curato proprio un'edizione di un libro sui mulini rupestri della Maiella una delle sorprese che abbiamo in serbo è la presentazione proprio di questo percorso itinerario che stiamo riprogettando, ripensando, sperando di poterlo inserire in qualche bando del PNRR che ci possa dare la possibilità di creare proprio un nuovo punto d'attrazione. Ecco.